Nel silenzio assoluto di questo sabato sera, dopo quattro anni, i nostri cuori tornano a battere insieme a quelli di tutti i maestri di sci e snowboard che insegnano questo sport sulle piste di questa stazione, stazione che quest'anno, nel 2023, compie 60 anni di attività e noi promettiamo che ce la metteremo tutta per farvi vivere questa festa ancora durante la stagione invernale. Attenzione perché stiamo per vedere le fiaccole di colore affrontare il tratto più impegnativo, l'adrenalina sale. La pendenza di questo tratto di pista è circa del 40%, assoluta maestria nell'uscita del più altrimenti non ce n'è per nessuno. Tra un po' vi chiederemo di guidarci con le mani, ragazzi, maestri delle due scuole civiche stasero, invitati da Chietto Di Paolo a di pista, verso di noi. Ora si rispondono tutti quanti in linea. grazie per queste emozioni! L'acqua è al cielo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.